La Gelbison dopo aver saltato la gara casalinga con il Sant'Agata la scorsa giornata per il rispetto del protocollo anti-Covid, si trova ad affrontare una situazione analoga anche alla vigilia della sesta giornata. Il club cilentano infatti con un comunicato ufficiale ha annunciato che dopo il match con il Troina nelle cui fila risultavano cacciatori positivi, in queste ultime due settimane ha sottoposto tutti i calciatori e lo staff tecnico ad una serie di test rapidi per monitorare lo stato di salute del gruppo. Da questi test sono emersi tre positività relative ad altrettanti calciatori, per gli stessi sono stati predisposti dunque i tamponi molecolari il cui esito sarà comunicato dall'asla di competenza. Nel frattempo dunque la società del presidente Puglisi ha chiesto alla Lega di Lettanti di rinviare la gara di domenica con la CR Messina in programma nel centro siciliano. Per la Gelbison si tratta di un altro imprevisto stop che mette a rischio anche il recupero già fissato per mercoledì 4 novembre con il Sant'Agata.